Buongiorno a tutti, sono Simona Nava, sono una ginecologa e per me è il primo anno e sono super onorata di partecipare a questa scuola di alta formazione in epigenetica. A me è stato affidato l'arduo compito di parlarvi del periodo epigeneticamente più importante che sono i primi mille giorni di vita, cioè quel periodo che va dal concepimento al compleanno del secondo anno di vita di un bambino. È il periodo in cui maggiormente influenzano i fattori epigenetici, sia quelli positivi che quelli negativi. Li vedremo insieme entrambi e insieme cercheremo di imparare noi stessi e soprattutto poi a divulgare come aiutare i nostri pazienti a migliorare la loro vita, ma soprattutto quella dei loro bambini, quella dei bambini che devono ancora nascere, attraverso l'aumento dei fattori epigenetici positivi e l'eliminazione o la riduzione di quelli negativi. Vi aspetto perché saranno lezioni importantissime per la vostra vita, la vostra salute, ma soprattutto la vostra professione. A me questa scuola ha dato tanto.